Ehi, Feli! Don Luigi! Non ti avevo visto più, pensavo di ripartito. No, no, mi sto trattenendo, voglio comprare una casa qua. Voglio far venire Arletto, mia moglie. Azz! Ebbene, ah! Che faccio? Mi sfuga? Ehi, Feli! Ehi, Feli! Devi qualcosa! Dove stai? A casa di tua madre? Ma non in quella dove andava a trovare lei, no. Ho fittato una casa diversa. Sta proprio là. In fondo a quella strada. Meno male. Erano uai che la casa. Pensa che prima di tua madre ci abitava una famiglia di cingalesi. Erano i nove in quei trenta metri quadrati. E io li aiutai a trovare una sistemazione migliore. Eh, se mia madre è finita là è stata per colpa mia. Lascia stare le colpe passate. Tu gli avanti a mo'. Eh, non è facile. Tua madre certamente avrà capito i motivi della tua lontananza. Ma mia madre... Che c'è? Niente, niente. Mamma. Quando vuoi parlare... Io qua sto. Beato! È saluto. Nowa è un po' proclame. Vance.